C'è una serie di cose che vengono fatte, la cosa più ridicola che ho fatto per amore, madonna che cazzo, ma perché la gente non... cosa per dire ho fatto per amore, non lo so, tante, adesso mi ricordo, sapevo, mi dicevi stamattina che ero preparato, non lo so, tante, è una cosa più ridicola, perché poi non fatte cose belle, è una cosa ridicola per amore, è una cosa ridicola per amore, se mi sono travestito da qualcosa, guarda una volta l'ho fatto all'aeroporto, stavo girando Sharm el Sheikh all'aeroporto di Sharm el Sheikh e stavo arrivando a mia moglie con l'aereo che lo avevano travestito da arabo, avevo comprato alle bancarelle un vestito loro, quindi pensavo... e me ne sono messo turbante, solo che la pelle scura, non lo sapevo che poi il vestito da arabo sembrò un arabo, per cui siccome quegli abiti non mi avevamo spiegato che si rimettono soltanto le persone che sono degli integralisti, sono un po' pericolosi, quindi era prima, insomma, di tutto questo periodo di grande tensione mondiale e io, giuviale, sono montato sulla navetta per andare all'aeroporto a fare il cazzone e appena sceso ho giocato pure, appena ho aperto bocca, pure la signora quella del cecchino ha fatto, cazzo, sono da Roma, sono da Lazio, non so se questo aggrava però, ho dovuto... si però l'ho detto alla Lazio, vabbè, la Lazio l'hanno fatta assai, però... oggi è grava, però all'epoca mi hanno graziato, vabbè, io questa l'ho fatta, questa l'hai fatta, Vanessa? La cosa più ridicola... chi sono questa? C'è mia mamma... no, sono quelle di giù, le domande di film... mi sono messa dalla spagnola e... che è successo? perché era il toro e poi... hai visto tutto rosso e poi... dai, quella storia... e questa è la storia... e questa è la storia che ho messo la titana... la martirà di coloro... la città... e questo è stato... ok, l'Italia forse è contenta... Giulia...